Oggi per noi è come un secondo primo giorno, in particolare per le classi prime. Per questo abbiamo organizzato per loro, insieme alle studentesse, agli studenti tutor e ai docenti referenti, attività di accoglienza con una visita della sede. Una nuova prima campanella per gli studenti del professionale Marconi di San Giovanni Valdarno che adesso finalmente sono potuti tornare in classe nella loro sede. Ci sarà da migliorare un po' l'estetica, però siamo fiduciosi. La provincia ha fatto il suo lavoro, nonostante la lunga attesa, ma siamo fiduciosi. Lo scorso settembre, a poche ore dall'inizio dell'anno scolastico, il crollo del soffitto e del controsoffitto. Le classi erano state così spostate al centro pastorale Guido Guerra di Montevarchi, al convento dell'ex Suore Stimmattine di San Giovanni e nei locali della parrocchia di San Pietro e Paolo Albani. La provincia di Arezzo ha poi certificato la sicurezza di quasi tutti gli ambienti, cioè quelli interessati dai lavori di installazione delle reti sui soffitti. E così il rientro nel plesso di via Trieste con i laboratori finalmente fruibili. Oggi il rientro ci permette la ripresa a pieno regime di tutte le attività specifiche del percorso professionale, quelle legate in particolare alla disponibilità dei laboratori. Da oggi i ragazzi riprendono a pieno ritmo l'utilizzo dei laboratori, mi riferisco in particolare, come ben vedete, al laboratorio di pannellistica per il triennio della manutenzione elettrica e elettronica e all'utilizzo dei torni per la meccanica made in Italy. Per loro è importante lavorare con le mani, perché questa scuola è la scuola del fare, quindi è la scuola dove davvero si riesce a costruire dei dispositivi. Restano fuori per ora soltanto gli studenti dell'indirizzo moda che continueranno a fare lezioni a Montevarchi. Potrebbero tornare in sede dal prossimo settembre, anche grazie ai fondi stanziati dalla regione, oltre 477 mila euro per la messa in sicurezza di alcuni locali e per il miglioramento sismico di un blocco dell'istituto.